Se la Serie A va avanti a colpi di tamponi e quarantene, lontano anni luce, c'è un piccolo ma grande mondo costretto a fermarsi a causa del lockdown dello sport imposto dal governo. Stiamo parlando delle numerose società dilettantistiche del territorio. È il caso del Sant'Alessandro, realtà storica, che da qualche anno ha rinunciato alla prima squadra, concentrandosi solo sul settore giovanile. Stava andando tutto bene e poi è arrivata la delibera regionale che ci ha bloccato. Dopo ci ha consentito di riprendere comunque gli allenamenti in forma individuale e in questo, devo dire, noi siamo preparati perché l'esperienza della passata stagione ci ha servita. Stavamo predisponendo quindi come organizzarci e poi è arrivato il decreto della Presidenza del Consiglio che invece ci ha di nuovo fermati. Per poi, per metterci dopo due giorni con delle fac che abbiamo visto sul sito della FIGC, che potevamo fare gli allenamenti in forma individuale, mentre proprio dell'altro giorno una circolare che ha fatto il Ministero dell'Interno alla Prefettura, dove proprio diceva chiaramente che gli allenamenti anche in forma individuale per gli sport di contatto erano sospesi. Poco meno di 200 ragazzi distribuiti in 12 squadre costretti a rinunciare agli allenamenti al campo, nonostante tutte le precauzioni di medico sociale ed allenatori. Purtroppo, diciamo, quello che temevamo sarebbe successo, alla fine si è verificato. Noi fin da subito abbiamo cercato di seguire a pieno tutte le norme che sono state indicate dalla Federazione e dai vari DPCM, cercando di mantenere il più possibile la sicurezza dei nostri ragazzi, dei nostri allenatori, dirigenti e tutto il personale che gira attorno alla polisportiva. Abbiamo stilato fin da subito una serie di protocolli sulla falsariga di quelli per le scuole per controllare i ragazzi e per isolare subito eventuali casi sospetti e casi positivi, come purtroppo è successo. Il lavoro che avevamo fatto a maggio e giugno ci aveva preparati, nel senso che quei ragazzi si era riusciti a farli arrivare senza dover spiegare tanto, erano abituati a seguire i protocolli, a fare tutte quelle operazioni necessarie per poi accedere alla struttura di gioco. E quindi il ritorno in campo per loro è stata una cosa molto positiva. Vedevamo dalle facce, dall'impegno che ci mettevano, che proprio avevano voglia di tornare sui campi e di cominciare una stagione che, tra virgolette, doveva essere normale, speravamo fosse normale, aveva iniziata in modo normale ma poi purtroppo ci ha portati alla chiusura. Logicamente siamo sempre vicini ai ragazzi e alle famiglie e ci auspichiamo di trovare forme e modi per poterli di nuovo vedere in campo con tutte le misure di sicurezza possibili.